come tutte le cose che vengono definite open anche gli open data vengono definiti open cioè aperti per due grandi ragioni una ragione è di carattere tecnologico io non me ne occupo lascio a persone molto più competenti di me occuparsi di questo di questo tema l'altra ragione invece è quella di carattere giuridico che insomma è l'argomento di cui normalmente mi occupo e che cercherò di spiegarvi in questo video quindi open data sono dati più propriamente dal punto di vista giuridico banche dati insiemi di dati quindi che sono open cioè aperti perché hanno una licenza d'uso che li libera che li rende aperti cioè che ne consente alcuni utilizzi senza dover chiedere il permesso titolare dei diritti ok quindi quello che viene meno è l'obbligo che invece scatta di default in tutto ciò che è coperto da copyright da diritto d'autore da diritto sui generis cioè il diritto che si applica alle banche dati normalmente la regola appunto è quella di chiedere il permesso agli responsabili ai titolari dei diritti agli autori a coloro che hanno costituito la banca dati con una licenza d'uso gli utenti possono farne già degli usi molto liberi perché questo è stabilito già dalla licenza quindi l'utente legge quello che c'è scritto nella licenza e capisce che può liberamente utilizzare questo insieme di dati questo dataset non tutte le licenze disponibili su internet che si trovano su internet che si possono utilizzare per dati sono davvero open perché per essere open devono garantire tutta una serie di libertà agli utenti la definizione di open data ad esempio lascia fuori tutte le licenze che non consentono gli usi commerciali quindi i dati devono essere utilizzabili liberamente anche per scopi commerciali e lascia fuori anche tutte le licenze che non consentono la modifica del dato quindi tutte le licenze che limitano le opere derivate le derivazioni le rielaborazioni chiaro che gli open data nascono proprio per essere riutilizzati quindi essere miscelati insieme ad altre banche dati oppure essere estratti per farne diventa per diciamo estrarne valore far diventare questi dati qualcos'altro quindi per essere davvero open devono avere queste libertà se pensiamo al set di licenze creative commons rimangono diciamo nella definizione di open data le tre più più libere diciamo il cosiddetto cc0 che non è neanche una vera e propria licenza cioè una dichiarazione di rilascio in pubblico dominio la licenza cc by cc attribution cioè la licenza più semplice quella che in cui il titolare dei diritti chiede solamente il riconoscimento della della sua paternità della sua del suo ruolo di autore originario e poi la licenza attribution share alike che è quella che chiede che anche sulle opere derivate venga applicata la stessa licenza un po il meccanismo simile al copyleft nell'ambito informatico del software libero ecco quindi data set che vengono rilasciati con una di queste licenze possono essere considerati considerati pienamente coerenti con la più diciamo la più riconosciuta a livello mondiale definizione di open data ok quindi prima cosa guardare subito la licenza per capire se abbiamo a che fare davvero con degli open data il fatto che siano semplicemente scaricabili dalla rete non li qualifica come open data ok ci deve essere una licenza quindi un documento che accompagna il file il data set del sito web in cui il data set è pubblicato che trasmette che comunica quali sono i termini d'uso e quindi comunica anche le libertà di cui l'utente si può avvantaggiare grazie appunto alla scelta del titolare dei diritti che ha sposato la causa degli open data e quindi ha rilasciato il data set con una licenza coerente con la definizione come abbiamo spiegato poco fa grazie a tutti